Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 3 maggio. A conclusione del mese di aprile 2024 si determina un quadro dell'andamento del mercato dell'olio extravergine di oliva pressoché stabile. A testato su una media di circa 9,43 euro, senza riscontrate variazioni significative, in calo di 31 centesimi rispetto al mese precedente. Nell'analisi delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva nel primo quadrimestre emerge una situazione caratterizzata da variazioni rapide dei prezzi, con una tendenza finale al ribasso, passando da 9,74 euro a 9,88 euro e infine a 9,42 euro chilo. Sebbene si preveda che la tendenza attuale del mercato dell'olio rimanga stabile a causa delle scorte limitate, è importante considerare che le previsioni potrebbero non essere sempre precise. Le variabili si riscontrano nella complessità delle dinamiche del mercato e l'instabilità delle produzioni. Fanno testo gli andamenti del primo quadrimestre degli ultimi quattro anni, come si evince dal grafico di mezzo, che evidenziano la sensibilità del settore agli eventi esterni e alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta, valori pressoché triplicati. Mercati esteri Nel corso dell'ultimo periodo, la media delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva nei mercati del bacino del Mediterraneo ha mostrato un andamento oscillante, con una tendenza al ribasso. Inizialmente, partite da una quota di 7,44 euro chilo, le quotazioni hanno registrato un progressivo calo, raggiungendo infine il valore di 7,35 euro chilo. Questo andamento riflette la complessità del mercato, influenzato dalle condizioni climatiche e dalle dinamiche economiche globali. Grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima settimana!